che abbiamo su una scaletta ma vedi da qua ti taglio lì è più bassi ma hai la possibilità di prendere due mani mentre ieri avevo una mano sola l'altra non aveva un figlio dai ragazzi parli sempre e adesso sei zitto è una giornata stupenda adesso non so cosa come dire per ora ragazzi